E' già un attore, ragazzi, siamo re... siamo reso... Chi siamo? Dai, siamo in tre, dai, ce lo possiamo fare a vincere. Allora spendi... Leo! Prenditi la spada, se... Prenditi la spada. Sei spacciato. Sei spacciato, Leo, mi dispiace per te. Guarda. È la tua fine. Ma vedi che ci... Ma vedi che si compra il... Il kit di... Di... Di Amon. Che ci fa amare la... Siamo due contro uno. Ok. Siamo uccidere. Ok, io ho la corazza addosso. Ehi. Io ho già dato fuoco. Ma un minuto non si può far niente. Ma un diamante è bello, mio. Ho un panino. Io ho un diamante, se c'è un diamante... Siamo ricchi. Non si può fare spada... Ferra e di Amon? Eh, non lo so, seguiamolo, dai, vieni, 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 vieni. Sei spacciato, amico, sei spacciato. Anche lui ha la lava. Però io so, io ho il kit fuoco, quindi è inutile che tu te ne stai lì col fuoco a darmi fuoco. Sei spacciato, Leo. Hai scelto un nome troppo, Leo. Leo. Leo, Leo, Panda. Leo, Panda. Vieni, vieni qua. Non puoi... Eh, è bello, no? Non c'è bisogno, tanto... Eh, infatti, tanto io ho la resistenza. Ah, mica, devo prendere... Che pozione è questa? Sì, bello! Dove è andato? Tanto io c'è la rapidità, ti posso prendere. No! Ho capito che il kit è il... La pozione di... Di... Dove è andato? Dove è andato? L'abbiamo perso, non possiamo... No, forse si... No, no! No, è impossibile. Dai. No, dai, non possiamo averlo perso. Oh, l'ho perso, no, l'ho perso. Davvero? Allora, ho cercato di un player. No, forse... No, è lo spawn, torna allo spawn. Torna allo spawn. Sì, sì, torna allo spawn. È alle chest. No, 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 dai, non posso. Non posso morire. Sono bloccato. Ma io sei un coglione, tu. Dai. No, no, no. Vesco a perdere così. Non ci credo. Non sei un coglione, lo sapevo. Ho un'idea. Ma... Ho un'idea per uscire. Ma questo con il fuoco, pure. Tu non ci crederai come sono uscito. Ma tanto mori... No, io sto morendo pure adesso, dai. Io non muoio, ho la resistenza al fuoco. Dov'è il fuoco? Ah, è bello. Fenomeno. Sì, è troppo figo. No, 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 no. Ma tene, tu fuoco, fuoco. Io non ce lo voglio, lo fuoco. Forse non ha capito che io ho la... La spada. Ho la resistenza al fuoco. Non ho la spada. Spada. Ho perso la spada. Ma io... Tu voleri... Oh, io ho andato fuoco. Vai, morirai. È un anche game infuocato questo. No, 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 non posso. Non posso morire così. Sì. No, no, acqua, 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 acqua. Sei spacciato, amico. No, bella. Ah, durato fuoco. Ah, sì, muori. Eh, sei morto, amico. Sei morto. Sei morto. Mi dispiace. Mi dispi... Tu l'hai mai vinto uno? No. Ecco. Allora dobbiamo contendercelo perché io non ho mai vinto un Hunger Games. Ok, allora facciamo così. Eh, io non ho una spada però. Cosa facciamo? Dobbiamo fare armi pari, qualcosa del genere. No! No, ti giuro, non c'è niente. Non ho neanche una spada. Ciao. Tu hai una spada? Ciao. 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 Ciao, guardami dove sto. Dove sei? Eh, ciao. Ah, sei morto? No, no, non ti permettere proprio. Eh, mi sa di sì. Aspetta. No, cioè metti un po' di lava e ce la posso fare. No. Mi sa di no. No, sei riuscito a uscire. Che culo. Come che ho già fatto? Boh, morirai comunque perché io ho la resistenza al fuoco. Eh, ma io no. Infatti. No, dai. Sì, sì, ce la posso fare. Sì! Eh, ragazzi, ho vinto un Hunger Game. Ho vinto un Hunger Game. Ho vinto un Hunger Game. Ragazzi, dopo 2000 Hunger Game, questo è il primo Hunger Game che vinco. No, no. 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 No.